Il Parco Verde nel quale si sono verificati ripetuti stupri ai danni di due cuginette, due ragazzine di 10 e 12 anni e attesa per l'arrivo del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, insieme anche al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi. Una visita prevista intorno alle ore 12 di questa mattina. Non sono però mancate le minacce rivolte a Giorgia Meloni tramite i social network, anche in relazione alla decisione da parte del Governo di dire addio al reddito di cittadinanza. È una vigilia di minacce a disturbare l'arrivo di Giorgia Meloni a Caivano. Io ti consiglierei di stare a casa, sei sicura che tornerai? Scrive una donna di Caserta. Più che i gravi episodi di violenza ai danni di due ragazze nella periferia napoletana, ad ispirare l'avvertimento è il cambio di rotta sul reddito di cittadinanza, sospeso già a migliaia di percettori. I commenti che ne seguono sono pure peggio. C'è chi augura la morte al capo del Governo. Dal clima d'odio scaturisce inevitabile il timore che qualcuno passi dalle parole ai fatti. Il Ministro Piantedosi sceglie la linea della fermezza. Chi cerca di condizionare la vita politica con minacce o violenze sarà individuato e assicurato alla giustizia. I due vicepremier non fanno mancare il sostegno alla leader. Andiamo avanti uniti e senza paura. Cara Giorgia, ti sono vicino, scrive Antonio Tajani. Nessuno di noi si farà intimidire. Portiamo avanti il programma di governo, assicura Matteo Salvini, pronto insieme a tutti gli altri ministri a stringersi idealmente a Giorgia Meloni. La linea di condanna per l'accaduto è unanime. Il Presidente del Senato la Russa suggerisce di abbassare i toni del dibattito politico. Il Presidente della Camera dei Deputati Fontana auspica l'individuazione dei responsabili. I messaggi di intimidazione, di istigazione all'odio e alla violenza non devono trovare alcuno spazio in una democrazia, commenta la segretaria del PD Schlein. Alla solidarietà, il leader 5 Stelle Conte aggiunge l'impegno affinché le contestazioni e le critiche non sconfinino mai nell'odio e nella violenza. Sempre dalla parte del confronto e del dialogo, conclude Carlo Calenda, Meloni ringrazia, le intimidazioni garantisce non impediranno la nostra presenza al fianco dei tanti che chiedono sicurezza e la possibilità di un futuro migliore per i propri figli.